Una cordiale buona serata a tutti gli appassionati di pallacalestro e soprattutto ai tifosi, alle tifose della Romano Group Basket Menafro e della 2S Valle d'Itria Martina Franca. Ci apprestiamo a vivere l'emozione della prima giornata di campionato Serie B, targata stagione 2014-2015, che mette di fronte il sedalizio della Frano, che calca il parquet della Serie B per il secondo anno consecutivo, l'anno scorso della Metricola, e Martina Franca, che invece è una società, tra virgolette, leader nella DNB, avendo sempre praticato questa categoria. Diamo subito una lettura al roster, agli schieramenti per ospitalità, già ovviamente quella di Martina Franca, che si schierava con il numero 4 Francesco Forti, con il numero 5 Caro di Alessandro, il numero 6 Camassa Daniele, il numero 8 Bruno Santiago, il numero 9 Sione Friuli, il numero 10 Luca Schiano, il numero 11 Mattia Mastroianni, il numero 12 Mattias Di Marco Capitano, il numero 13 Salvadori Leonardo, il numero 13 Obinian Coio, agli ordini di coach Aldo Russo, il suo dice Ambico Giovanni. Invece a parire da Frani, il numero 4 Stefano Scafaro, il numero 5 Di Rodoro, il numero 8 Massimo Moretti, il numero 9 Capitano Raffanemighella, il numero 10 Mimmo Lazio Ferraro, il numero 11 Mere Tamburini, il numero 14 Enzo Cardarelli, il numero 15 Fabio Nevatti, il numero 16 Alessandro Musello, il numero 17 Revolazioni, agli ordini di coach Mascio, il suo vice Francesco Valente, arbitro di Contro, Nicola Tambaro di Giffoni Valle Piana al Salerno e Adriano Fiori di Scafato. Una gara che mette di fronte due roster assolutamente rivoluzionati per Benafro nella gran parte, Napoli e Martina quasi nella totalità rispetto alla stagione precedente. Salutiamo il momento Martino Franca e la ventina dei tifosi che hanno seguito la lunga trasferta, i propri colori, e ci pensiamo di avere soprattutto l'emersione di una gara che mette di fronte due roster, come abbiamo detto, molto rinnovati. Benafro ha pescato tre nuovi acquisti, Massimo Moretti, Diego Corral e Fabio Nevatti. Ritornando a casa anche Stefano Scafaro ha completato il mercato, mentre invece Martino Franca ha pescato sul mercato almeno otto elementi. Tre di questi sono argentini, vi daremo lettura dei nomi degli argentini e degli eventuali cambi che la partita metterà in campo sulle scelte dei due tecnici. Diamo subito che metterà dei cinque in campo per entrambi le formazioni, l'altra schiera Moretti, Ferraro, Lovatti, Corral, Pedrazioni, mentre gli ospiti invece mettono in campo il numero 10, Lucas Chiano, il numero 11, Mattia Mastroiano, il numero 13, Salvagliore, Leonardo, il numero 8, Bruno Santiago e il numero 12, Mattia Mastroianco. Sono gli ospiti che era partita, il ribaltamento, si rifiuta il tiro delle tre, scarico nell'angolo basso per il numero 10, Lucas Chiano, che realizza i primi due punti della partita. Di parte di Ravenafro, Lovatti, in funzione di play, sceglie l'altro sinistro, consegnato le operazioni, schema ruota, la palla ritorna alle mani di Fabio Lovatti, ben marcato dal numero 8, ospite, scarico per il numero 9, per Mimmo Ferraro, che ha provato in un passeggio schiacciato a dare la palla sotto a tre di Egon Corral, ma non vi è riuscito. Rimessa per i Venafrani, con 14 secondi a disposizione, questa è una novità regolamentare di cui parleremo durante la partita, è farvi arrivati a fare la rimessa, palla che rimane troppo tempo nelle mani del giocatore di casa, riparto di Ramoretti, molto lontani dal canestro, fedrazioni, ottimo lo schema e fallo del numero 13, Salvadori Leonardo, ai danni di Egon Corral, un ottimo schema che ha previsto il taglio avanti di Egon Corral, con l'ottimo passaggio di Fabio Lovatti, primo fallo per il numero 13, ospite, liberi per Egon Corral, sbaglia il primo, foro lungo per lui, palla per una palla caldissima, peggio la durata fantastica, quasi da mare, sbaglia anche il secondo, 0 su 2, rimane 2-0 il proteggio, quando appena, quasi passato il primo giro di lancette, sono gli ospiti ora a manovrare, Mattia Mastroianni, qualche palla in un totadio di virata, di fatto l'incontrovedio ha abbozzato Menafro, palla per Moretti, c'è sfondo di Moretti, bravissimo Leonardo a prendersi il fallo del numero 8 ospite, che aveva cercato di servire in un assist sotto, un compagno, e c'è di Egon Corral, l'incontrovedio è un po' lento, guarda che dimostra ancora come sia necessario farla decollare, gli esordi sono generalmente oggetto di uno studio iniziale, riparte Martina Franca, chiama la schiena, Mattias Di Marco, palla ora l'ora di Ciroboschiano, ancora Mattias Di Marco, palla per Leonardo, cerca il compagno, lo trova ancora Di Marco, che si prende il jumper, va non va, e riparte Fabio Novatti, ribattamento, finge il passaggio per Massimo Moretti, palla che finisce a Corral, stoppato dal numero 11, Mattia Mastroianni, infatti contro qui è Martina Franca, c'è probabilmente passi, così ci pare, così è. Mattia Mastroianni è un giocatore da seguire, intanto perché sposa la filosofia di Martina Franca, dimostra sui giovani, giocatore premetto come migliorander a recente per Leo, trofeo pinto a Mola, dove Mattia Franca è arrivata seconda, e già ha messo in scena la prima stoppata nei confronti del Totem Argentino, palla per Ferraro, un po' feraginosa la costruzione dei giochi, Mattia Franca, di Novatti, per l'azione, aspetta il taglio di Corrala, c'è un doppio taglio, probabilmente non ci sono intesi i due, ma è bravissimo, Mimo Ferraro, giro attivo, dopo due giri di lancette, Benafro pareggia 2 a 2, palla ora per il numero 10, ospite che si vende il jump in due, e realizza il secondo canestro per lui, 4 Mattia Franca, 2 per Benafro. Moretti si fa intercettare il passaggio, sempre da Mattia Mastroianni, recupera Mimo Ferraro, palla per i po' di azioni, si prende la tripla, e la mette per il 5 Benafro, 4 Mattia Franca, 7 minuti e 36 ancora da giocata, è proprio il tuo quarto, intanto c'è una ricomprensione, probabilmente, anzi, una richiesta al tavolo di non far partire il fenomeno per sistemare la retina, così è, e riparte l'azione per gli ospiti, due minuti e mezzo di gioco, 9 punti sul tabellero, 5 Benafro, 4 Mattia Franca, regala molto tattica, Benafro ha probabilmente un vantaggio con Corral e Fulturato, ma deve andare a prenderselo tutto, Di Marco, palla per il numero 8, ospite Bruno, e quando si beve Fabio Novatti, riesce anche ad appoggiare, subendo il fallo che aveva il palestro Bruno, scusa, il fallo è di Corral, ah, scusa, il fallo è di Fabio Novatti, sì, che fa il suo primo fallo, intanto il numero 8, ospite Bruno, realizza il canestro, la benetane canestro per il sorpasso, 5 Benafro, 6 Mattia Franca, realizza anche il libero supplementare, 3 per lui, 4 per Lugaschiano, due minuti e di vantaggio per gli ospiti, Novatti attacca il ferro, scarica dentro, la palla è improbabile, dovrebbe chiamare un po' time out, che ci piace secondo noi, proprio per ordinare un po' le idee, voglio fare i benafrani, non va da 3 punti, il tentativo di, la PS di Marco, riparte Fabio Novatti, si vende il centrale, scarica nel lato opposto per Massimo Euretti, non mette la tripla, non vede neanche il forno, ripartono gli ospiti, con Lugaschiano, e la palla è per Salvatore Leonardi, Leonardo Salvatore, scusa, palla dentro, per il numero 13, ospite, che si va a prendere un mismatch, a favore, di presso questo caso, da Mimmo Ferrare, che commette fallo, primo fallo, per Mimmo Ferrare, liberi per il numero 13 ospite, anzi, non ha dato il libro, giustamente, chiediamo scusa, rimessa in attacco, con 14 secondi, in buon'azione, c'è stato un fisco, i benafrani dormono, e approfitta facilmente, il numero 12 ospite, Mattias Di Marco, per il più 4, 9, Martina Franca, a 5, venafro, ci vorrebbe una bella sveglia, poi di colori venafrani, blocco alto, di Coral, Lovatti, scarica, per la non-repetrazione, l'ottimo schema, per i venafrani, quando Coral è, praticamente fuori, dalla traiettoria, c'è la possibilità, di andare a pescare, il puntinello, pitturato, Di Marco, anzi, chiedo scusa, numero 8, San Diego Bruno, non va da 3, forzato, debattono i venafrani, sono in superiorità, Lovatti, attende il compagno libero, palla sotto per fuori, la molto notata, appunturato, c'era giocato il blocco per uno, c'era addirittura, il tentativo di triplicare, con l'ottima, per Vimo Ferraro, che realizza il suo quarto punto, un altro pareggia, a 5.40, dalla sua prima quarto, 9 pari, Mattias Di Marco, bella palla dentro, per Donardi, non va, peccato, però si perde sul fibollo, il pallone, Salvatore, riesce invece a, poggiare a canestro, più 2 per gli ospiti, 11, Martina Franca, 9, benafro, siamo quasi a metà del quarto, palla per Razzuoli, che non se ne sentiva, di servire subito, Corral, facendogli prendere la posizione di vantaggio, rimanere contro i piedi degli ospiti, con, la quasi schiacciata, di Luca Schiano, che fa, 6 punti, più 4, a 5 giri di lancetto, dalla prima sirena, 13, Martina Franca, 9, benafro, la Romano Gruppo deve, gestire, vedendo alcuni, schemi offensivi, vengono a giocare in pivot, basso, levati, si prende, l'appoggio, probabilmente, commette il fallo, Diego Corral, in attacco, commette il primo fallo, se c'è le falli, dice, benafro, sotto bonus, c'è il, primo time out, per i benafrani, richiesto da Rocchumaccio, che, capisce come sia necessario, dare una sveglia ai propri, e la tante in corso, la rimessa in attacco, senza difensore, e Martina Franca, sta facendo il compitino, è avanti di 4, 13, 2S, Valle Ditria, 9, Martina Gruppo e Benafro, dà un'occhiata anche, alle scelte, delle due squadre, Benafro, si è affidata, a tutta l'esperienza di Fabio Novatti, come play, proveniente da categoria superiori, ma anche Massimo Moretti, che gioca la sua prima, di NB, la sua prima serie B, la Tante in corso, la grande esperienza, nei campionati, di serie B, andando anche a fare, delle promozioni, come nel 2012, 2013, con la basket, non balese in DLB, vincendo il campionato, per l'accesso, in Lega Silver, sarò per entrare, le formazioni in campo, abbiamo sentito, abbastanza animato, il time out, di Rocchumaccio, che più che lavorare, sugli schemi, e sulla ridiferizione, dei Loli, ha cercato di rimotivare, i suoi giocatori, che hanno partito, discrezzamente, con la fine franca, si dimostra, scuola molto solida, e possiamo dare, già un'occhiata, diciamo, al piano tattico, dei Venafrani, cercare di servire, con il raddoppio, a volte anche triplicato, per il giocatore, per lo scarico buono, per l'appoggio, ma il problema, come ha ricordato, il settimane, del Cimaccio, non è in attacco, per i Venafrani, ma assolutamente in difesa, in quanto, in frattempo, Mario Tamburrini, per Massimo Moretti, scarico, per il numero 11, ospite, la palla, finisce le mani, di Donardi, che segna, di Salvadori, che, scusa, che segna il suo quarto punto, allunga leggermente ora, con tre possessi ampi, di vantaggio, Martino Franca, 15, Martino Franca, 9, Venafrani, consegnato per Pallurini, che finge di attaccare, il proprio difensore, palla ancora a Muno Ferraro, che invece attacca il pitturato, subendo fallo, da parte del numero 10, ospite, Luca Schiano, a suo primo fallo, si messa, da sotto canestro, in attacco, si dispongono, in difesa, gli ospiti, palla, il Pallur Maschera, prevede la palla, per Pallurazioni, che riesce ad accorgiare, facile a canestro, per il suo quarto punto, Venafro cerca di accorciare, meno 4, 15, Martino Franca, 11, Romano Gruppo, Venafro, è il 2-8, Santiago Bruno, ora, serve il suo, conterraneo, Mattias Di Marco, tra i due argentini, prende la linea di fondo, riesce, in qualche maniera, a seguire un compagno, la palla finisce a Salvadori, molto faraggiosa, anche qui, la costruzione, la giusta di attacco, ma c'è il fallo in attacco, del numero 13, Salvadori, che è al suo secondo fallo, 13, Salvadori, e infatti, esce per l'ingresso, del giovane, Uncoglie, che è nato ad Anzio, ma, ovviamente, ha origini, non italiane, nel senso, che è un giocatore, su cui, è investito molto, anche, il dirigente, di Martina, una pressione, ora, per gli ospiti, parte via, Tamburini, aveva una selezione, di vantaggio, per l'appoggio, scarico per, Mimo Ferraro, che serve, molto lontano, per, Pograzzoni, il primo foro, non va, riparte, la formazione pugnese, anche qui, gestione un po', partitolare, fallo, intanto, di Mimo Ferraro, su Uncoglie, bravissimo, Santiago, eh, Mattias Di Marco, che lo scusa, nell'assist, a Rimorchio, fallo, di Mimo Ferraro, che vuol dire, secondo fallo, ora, si è acceso il bonus, per i Varafani, osce proprio, Mimo Ferraro, e tra Massimo Moretti, quando, un goie, va, a provare, il suo viaggio in lunetta, con Martina Franca, avanti di 4, 15 a 11, mancano, 3 minuti e 36, per l'esattezza, mette il primo, il numero 17, ospite, giocatore, prevedente da Latina, Sbaglia, il secondo, ma rimbalzo, è in attacco, per Mattia Mastroianni, peccato, di Mastroianni, darbano leggermente, prova la tripla, ora, Mattias Di Marco, c'è poca reazione, poca reattività, ci pare che Mattia Franca, morda di più, sulle caviglie, di Mastroianni, ma i Fani, probabilmente, stanno un po' sottovalutando, la formazione dell'aspetto, troppo giovane, intanto, ha dimesso, che vuole servire, Mattia, Sardino, che è uscito, Mattia Mastroianni, che fallisce, praticamente, un rigore, porta vuota, i partner Benafrani, graziati, da fattispecie, dagli ospiti, palla, in un assotto, di Alip, di Fabio Novatti, di Dio Corral, i due giocatori, nel, pre-campionato, hanno giocato molto, questo tipo di, di opzione, con una sorta, di picchiarolo, molto alto, hanno sempre fatto bene, stasera, trovo, grande difficoltà, in quanto, vina, da Antoglio, che lo scusa, porta, un blocco, bravissimo, Bruno, a servire, un compagno, con il passaggio, di quella schiena, di parte, Meretti, troppo lento, il controvedo, dei Benafrani, i quali, si fanno anche, fregare un po' il pallone, bravo, Meretti, quando riesce, il passaggio, buono, l'accoggio buono, rimedia Corral, con due punti, che rimette, a meno tre, i Benafrani, sedici, Martina Franca, tredici, Benafro, con due giri e mezzo, di rancette da giocare, per la fine, il primo quarto, Bruno Santiago, trova il barco, trova anche il fallo, di Massimo Moretti, è sul uno contro uno, di Bruno Santiago, e di Mattia Stimatto, che i Garafrani, faticano moltissimo, intanto, secondo fallo, per Massimo Moretti, osce proprio lui, entra da fare, Minghella, il capitano Benafrano, quando Bruno Santiago, va a provare il viaggio, in lunetta, per cercare di allungare, l'elastico, proprio vantaggio, mette il primo, Bruno Santiago, classe 93, quindi 21 anni, proveniente da Cordoba, mette anche il secondo, due punti buoni, per i suoi, che ripartono, con un buon margine, in funzione di play, Mario Tamurini, dopo blocco, lo schema corna, si prende il vantaggio, dell'appoggio, fa tutto bene, tranne l'appoggio finale, di parte, Mattias Di Marco, che scarica, che scarica, ancora una volta, lo vatti, trova l'appoggio facile, è su quell'uno contro uno, che i Benafrani patiscono, Bruno intanto, mette ad effetto, il suo settimo punto, di quarto, Carino, più sette ospite, 13 Benafro, 20 Martina Franca, palla ora, a Fabio Novatti, con 10 secondi da giocare, si prende il blocco di Corral, scarica il percorne, da due, potrebbe tirare, palla per Pedrazzoli, non va, a Bruno Ferro, azione gestita male, finita a Poggio, 90 secondi, alla prima sirena, riparto ora, con più lentezza, Mattia Franca, a gestire questo possesso importante, Santiago Bruno, si prende il jumper, contro, Raffaele Minghella, rimbalza di Corral, riparto lentamente, i Benafrani, 15 secondi per l'azione, ancora perimetrale il gioco, consegnato per Tamburini, da Pedrazzoli, Corral, per essere un mismatch, probabile, con Mattia Mastroianni, così è, fallo infatti, di Mattia Mastroianni, c'è stato un cambio, cambio difensivo, su cui ha ben lavorato, il numero 5 di casa, Mattia Franca, adesso ha scelto il bonus, quindi non si va a tirare, rimessa per i Benafrani, 14 secondi, poi Fabio Latti, a occuparsi della rimessa, palla per Corral, scambiata con lo stesso Latti, sceglielato, trova il buon gioco a due, con Corral, provato due punti preziosi, per i Benafrani, meno 5, 20 mattina franca, 15, Benafro, oggi è l'assil 1 contro 1, il numero 10 ospite, che scarica per, un coie, che non mette la tripla, ribalzo lungo, i pedrazzoli, per Fabio Latti, Franco Bollato, da Bruno Santiago, dopo blocco alto, palla di Lovatti, fallo di Santiago Bruno, che fa sentire, tutta la pressione possibile, a Lovatti, che andrà a tirare, intanto c'è il time out, chiamato dagli ospiti, sul punteggio di, 20 per Martino Franca, 15 per, Romano Gruppo, Benafro, 35 secondi da giocare, un'azione, due alla pregliazza, perché probabilmente, è una possibile azione finale, per i Benafrani, dicevamo che, Benafro ha scelto, questa stagione, di investire, su tre giocatori fondamentali, come Devo Corral, Massimo Moretti, e Fabio Latti, diamo la lettura, anche del loro curriculum, se vogliamo, Devo Corral, è un 20 attenno, di Salicuolo, in Argentina, praticamente ha iniziato, a giocare, in C2, per cui è arrivata, l'esperienza italiana, a Salerno, vincendo il campionato, al primo anno, poi a Saro, in C1, poi a Sant'Antimo, in B1, o come vogliamo chiamarla, a direttanti, e per tre anni, ha praticato questa categoria, con Trapani, dove ha vinto il campionato, poi a Monfetta, andando in doppia cifra, sia a Tupi Ghani, in base, che poi a Nani, l'anno scorso, è stato fermo, praticamente, in Argentina, dove si è allenato, per prepararsi a questa stagione, l'anno prima, invece, era vincendo, un campionato di TNB, e accendendo la Lega Sirve, Barise, mi entrano intanto, i due quintetti, ricordando anche, che nel girone, di Benafro, qui c'è, l'altra formazione, molisana, c'è, Isernia, il club Isernia, di Ciro Cardinale, che oggi, è andata a far visita, a Mola, in un remake, della scorsa, del finale, della scorsa stagione, intanto, Fabio Novatti, va, metto il primo libero, per i suoi, meno quattro, mette anche il secondo, due su due, c'è il cambio, anzi, il doppio cambio, esce Fabio Novatti, esce anche Diego Corral, e tra Massimo, scusa, Alessandro Bussello, Stefano Scafalo, Stefano Scafalo, quest'anno, dopo una parentesi, praticamente ferma, a cercare di allenarsi, con la fermazione, di Serie B, nell'Ovenafro, ed è entrato, nella famiglia, a basket e arafro, 28 secondi, è il numero 9 di sci, Mattias Di Marco, scaiga ben forti, Francesco Forti, che cerca, in compagno, molto difficile passaggio, palla ancora per, Mattias Di Marco, si prende 1 contro 1, contro, Mario Tamburini, non va, l'appoggio, si fa fregare, Stefano Scafalo, sul, tagliafuori, mancato, arrivata di Benafrani, con i due punti, di Incoie, che a 3, si prende, l'appoggio buono, Mario Tamburini, per i due punti, finisce, qui, il primo quarto, 19, Romano Gruppo, Benafro, 22, Martina Franca, ci sentiamo, fra qualche istante, per, il commento, al, secondo quarto, Benafro, è la partita, in questo primo quarto, è abbastanza difficile, ci sentiamo, fra un po', tutto pronto, per il, inizio del secondo quarto, tra, le due formazioni, ripetiamo, il punteggio, del primi dieci minuti, di gioco, Martina Franca, 22, Benafro, 19, una partita, che Martina ha condotto, con grande sagacia, diventa anche al plus 6, plus 7, 20 a 13, Benafro, ha dimostrato, di poter giocare, meglio, con quei vantaggi che ha, la fattisprecie, Diego Goran, è pitturato, con il, piccare roll, ma se i problemi, non sono in attacco, sono assolutamente in difesa, difficili di contenere, di uno contro uno, di Santiago Bruno, e di, eh, Mattias Di Marco, giocatori, dalla bassa statura, che riescono a superare, di volta in volta, i primi versari, e stanno patendo molto, e la Franca, anche i mancati tagliafori, per quel concetto, di imbarzi, in difesa, riparte, Petrazzoli, praticamente lo stesso, il quintetto, per l'altro Venafrano, Minghella, palla per Diego Goran, molto contattina, anche adesso, si va a giurare uno contro uno, con Coye, trova lo scarico, per Berazzoli, che si fa, praticamente, scippare il pallone, ingenuamente, per il primo fallo, ma soprattutto, antisportivo, sul tentativo, di ripartire, di Mattias Di Marco, stanno assolutamente, pagando Dazio e Venafrani, su due giocatori, che sono Mattias Di Marco, ripetiamo, e Sadio e Bruno, è necessaria, una strategia difensiva, perché paradossalmente, Mattia Franca, ha questi vantaggi, poi, con una squadra molto giovane, probabilmente rispetta, sbaglia il primo libero, Mattias Di Marco, mette il secondo, c'è anche la rimessa, per gli ospiti, se ne occupa, lo stesso Di Marco, palla per Francesco Forti, scambia col, Lugaschiano, Forti, per Di Marco, c'è tra uno contro uno, con il Tamburini, si prende il suo isolamento, non va, palla anche, recuperata da Benazzuoli, che lancia il contropiede, per Mario Tamburini, il problema è nella testa, poi, di Benafrani, usciti da, con il primato lungo, qual è il riposo, tra il primo e il secondo quarto, Raffaele, se no, più scarico, mentalmente, concesso, l'azione per gli ospiti, Mattias Di Marco, gioca a due, con il Coie, subisce fallo di, Brusello, primo fallo di Brusello, vettura abbastanza semplice, dei giochi ospiti, con, cinque giocatori fuori dal pitturato, palla molto perimetrale, sul cerchio più largo, e c'è poi il taglio, in anticipo, di un giocatore, che adesso addirittura, era meglio, su due lunghe di casa, mettergli la linea libera, il giovane in Coie, sbaglia il secondo, rimbalza di Corral, palla per Minghella, ora è pedrazione, ripartire, ventiquattro, Martina Franca, diciannove in afro, sempre meno cinque, per le tamburini, probabilmente zona ospite, così ci sembra, zona, due, tre, o due, uno, due, Corral, la doppia di Marco, c'è il vantaggio, Corral cade a terra, palla per Pedrazzuoli, che prova la tripla, anche qui, pessima soluzione, dei medafrani, Di Marco, non se la sente, gioca contro Pedrazzuoli, ribaltamento per forti, palla per Lugaschiano, che si prende, un via di fondo, si beve Corral, e con grande facilità, segna altri due punti, è quasi vicino alla doppia cifra, il numero dieci ospite, e tanto a lunga, di sette lunghezze, la formazione pugliese, Pedrazzuoli, palla per Corral, che si gioca uno contro uno, con, un coie, sbaglia l'appoggio alla tabella, riparto con gli ospiti, a otto minuti, da riposo lungo, Di Marco, gioca uno contro uno, con Minghella, chiama la schiena corna, doppio blocco alto, schiena vultuato, deve lafrani, ribaltamento per Mattia, Mastroiani, palla per Lugaschiano, che si vede uno contro uno, con Brusero, blocca il palleggio, troppo presto, non c'è nessuna maglia blu, a rimbalzo, anche Martina Franca, dimostra di avere qualche, necessità, in termini di collaudo, troppa accademia, per i verofrali, e così si fa, uniti, da un coie, con il passaggio, dietro la schiena, del giovane, forti, lezione per, onore, per i suoli, troppo arroganza, in campo, per i verofrali, che hanno certamente, più tasso tecnico, più capacità di dirigere, questa partita, ma non è così, che si fa, quanto infatti, la palla a Mario Tammure, adesso si va, per le soluzioni individuali, per i verofrali, sette minuti e quindici, alla fine, primo quarto, non riesce il passaggio, sotto, per, un coie, da parte di Mattias Di Marco, time out, di Corcio Macio, arrabbiati tutti, da potrazioni, del suo errore, faccia scura, è incredibile, perché Martina Franca, sta volando via, 28 Martina Franca, 19 Benafre, solo una considerazione, Francesco Forte, numero 4, che ha effettuato, l'assistito, a 20 anni, di Firenze, quindi un play, su cui, Martina scommette, la politica, di, del presidente, schiavone, è stata molto, oculata, puntare, sì, su tre argentini, un certo spessore, come, Mattias Di Marco, come, Santiago Bruno, e come, lo stesso, Valentin Marchiso, che è in campo, stasera, ma anche, per scari, moltissimi giovani, di grandi qualità, tra questi, Ancoi, tra queste, anche, Mattia Mastonevanni, lo stesso, Francesco Forti, che ha appena, compiuto, 20 anni, lo stesso, Luca Schiano, che ha 22 anni, insomma, è una scuola molto giovane, se pensiamo, che Leonardo Salvadori, ha 21 anni, quindi, è una scuola, dall'età media, assolutamente bassa, forse, è quella che ha, l'età media più bassa, del girone, però, sotterisce, con la grande determinazione, della voglia, alle mancanze, di quella tecnica, il fatto, è l'enafrani, Tamburini, in funzione di play, sceglie lo schema, lo comunica suoi, si prende il lato sinistro, non si intende, con Corral, probabilmente Corral, non l'aveva capito, doveva portare in blocco, ed è Novatti, rientrato, che si gioca, il passaggio sotto, per Corral, schema tipico, 3-2, del letto, anche dagli ospiti, palla con Coie, che si prende, l'appoggio, non va, palla che rimbalza, nelle mani, di tutti i giocatori ospiti, e l'enafrani, ovviamente, non riescono a catturarlo, nuova azione per gli ospiti, sul più 9, vanno per la doppia cifra, di vantaggio, il giocatore di Corcellusso, è Forti, che si prende uno contro uno, palla, poi, in Coie, che ne è tiratore, e si vede, finisce, in 24, nelle mani, in Coie, più demeriti, dell'attacco ospite, che meriti, della difesa, della frana, che devono stare, di vedere questo, come compito, per casa, in questa settimana, anche se, dobbiamo dire, che le certezze, che Cochimaggio, viene in attacco, stasera, scricchiorano un po', e ora, Massimo Moretti, la guardia, di Palma Nova, serve, Fabio Latidi, botto, San Giorgio, doppio schema, ci sarebbe, un scarico per il tamburini, che si prende la tripla, non la mette, probabilmente, non è in ritmo, non riesce a prendere, l'immaggio d'attacco, Corral, di parte dei miei ospiti, con un tetapio da lunga, di Mattia Mastriani, di parte, non è in afrani, Tammurini, riesce ad appoggiare, per i due punti, fondamentali, per muovere, il led, del tabellone, per i menafrani, che ora sono fermi a 21, tripla dall'angolo, di Lugaschiano, che punisce, oltre misura, i menafrani, e mette proprio, 10 punti di vantaggio, per i suoi, 31 Martino Franca, 21 Venafro, Corral, Tammurini, Robatti, blocco a destra, di Corral, ci sarebbe già da due, c'è anche uno scarico, per qualcuno fuori, invece la palla finisce, nelle mani di Corral, uno schema, che quando, si costruisce bene, i menafrani fanno molto, molto bene, forti per Lugaschiano, per Santiago Bruno, che non va, per fortuna di Venafrani, il patto di Venafrani, il sugo è di Cannetta, fanno per Tammurini, appoggio facile, e con, 4 punti consecutivi, di Mario Tammurini, i Venafrani, si riportano su, meno 6, 25, Romano, Gritto, Venafro, 31, 2S, Valle, Hitler, a fine Franca, meno 6, quando mancano 5 minuti esatti, alla sirena lunga, riposo lungo, e i Venafrani, quindi, devono assolutamente, svegliarsi, perché Martino, squadra, Sormiona, giovane, molto entusiasmo, le parole del presidente, schiavore settimana, sono state assolutamente, eloquenti, noi puntiamo, su motivazione, energia, e talento, addirittura, parla di retta sin distruzione, quando ci sono, probabilmente, giovani, all'esordio, quasi meno, quantomeno, le prime esperienze, da titolari, e soprattutto, mi piace sottolineare, una frase del presidente, abbiamo costruito una squadra, in cui, la valorizzazione dei giovani, talenti, diventi un volano, utile per il settore, giovanile, sostanzialmente, è la stessa strategia, che i Venafrani, hanno sempre dottato, pescando dal proprio, Vivaio, da dire che, mentre Martina Franca, ha praticamente, pescato in giro per l'Italia, i Venafrani, hanno per esempio, stasera, Bruzelle, Minghella, Enzo Guardarelli, e sono frutto, del Vivaio Venafrano, dimenticando anche, che Marco Ricci, praticamente, ha abbandonato, le sue velleità, cestissime, un giocatore, che poteva costruirsi, avendo anche fatto, l'esordio, in Serie A, con Anagni, formazione che l'aveva preso, sotto la sua, la presettrice, ripartono gli ospiti, cinque minuti esatti, alla fine del secondo quarto, meno sempre, i Venafrani, Di Marco, Mattias Di Marco, scambia con Santiago Bruno, palla per Forti, che cerca, di seguire Santiago Bruno, così è, Mattias Di Marco, il cervello della squadra, chiama lo schema, c'è una zona, 2-3 per i Venafrani, parla per Dugaschiano, ha capito probabilmente, che ci lascia, che gli uno contro uno, sono il difetto di origine, della difesa Venafrani, infatti, in ore 13, non è entrato, Leonardo Salvadori, fallisce da due, il jumper, ripartono i bianchi di casa, Novatti, per Mimmo Ferraro, dalla palla sotto, per Corral, ben difeso, dal numero 13, c'è da dire, che però, il passaggio, era eccessivamente, troppo lontano, dalla mano, generalmente, si serve al tetto, comunque, va bene così, a me lo fa, ci provano, 4 minuti e 24, Santiago, Forti, Santiago, blocco di Dugaschiano, palla per Mattiasi Marco, se pende uno contro uno, con Levat, Levat, ha un'altra riflessione, qualcuno si è dimenticato, nel frattempo, di Forti, Gattiago 3, palla per la mani andata, se pende uno contro uno, Dugaschiano, contro Beretti, scarico per Santiago, Bruno, che mette la tripla, piedi a terra, da sole, cosa dire, se non ci si abbina, difensivamente, è più facile per gli ospiti, gestire il possesso, anche qui, Renafro fa fatica, a far arrivare palla, nelle mani del play, doppio blocco, chiamato con ritardo, mancano 4 secondi, palla per Tamburelli, si pende il jumper da 2, corto, non va, con richiami all'ordine, tanto le patto con gli ospiti, forti ribaltamento, per il sete con Bruno, palla a mezzo angolo, Buono, per il lugaschiano, ora insegnano basket, con gli ospiti, soprattutto nella giro palla, Berrafreni avevano mostrato, nella prima uscita pre-campionato, c'è contro Cassino, nella semifiale di Pamanise, questa qualità, ora si erano un po' più lenti, nel costruire le idee, cambio difensivo, mismatch a faiere di cora, per il passaggio, non può accadere così, sono fondamentali, i signori, che si insegnavano, e infatti, anche lo stesso, Santiago Bruno, pecca di mancanza, di umiltà, cercando di dare, un passaggio nel look, per il suo compagno, il risultato è, che le due squadre, fanno la rincorsa, a sbagliare, e infatti, nonostante Martino Franca, sia a più 11, 36, 25, a tre giri di mancetta, alla fine del secondo quarto, la gara non decolla, a quattro e la frani, fanno una grandissima fatica, 17 minuti, 25 punti, sono poco, in attacco, le pecche principali, sono in difesa, parla per cora, in senso di fare il mio caprino, con Salvadori, raddoppiato, scarica nell'angolo, dove c'è anche, oltre a Moretti, anche, Pedrazzuoli, posizionamento, dei due giocatori, praticamente, in un metro, a prestarsi i piedi, finisce la tripla, in arco, la tripla, se la prende invece, Ducaschiano, primo ferro, non va, in base lungo, di Pedrazzuoli, le due squadre, non hanno, probabilmente, tiratori, Corral, passaggio lungo, per noi, molto lento, palla invece, per forti, se la tripla lunga, non va, c'è anche la spinta, non vista, per fortuna, dagli arbitri, di Pedrazzuoli, su Salvadori, tutta la partita, se ci lo zattite, questo minuto e mezzo, tra le due squadre, chi, sbaglia di più, non viene veramente premiato, a fine partita, palla a Moretti, sotto per Corral, un semplice, appoggio, se la palla gira, si trova il vantaggio, se la palla ristagna, nelle mani di uno, dei giocatori, per troppo tempo, la difesa, da Orpide, si schiera, Mattias Di Marco, blocco, abbastanza granitico, di Ducaschiano, Mattias Di Marco, si prende, chi è da due, commettendo, ingenuamente, il suo fallo, terzo fallo, di Moretti, toccando il braccio, di Mattias Di Marco, il quale, gli va, praticamente, a dire, non puoi lamentarti, mi ha toccato il gomito, è evidente, anche perché, molto bravo, Mattias Di Marco, a fare, notare, questo, fallo, al duo, arbitrale, fatto sta, che quando manca, 100 secondi, al riposo lungo, Mattias Di Marco, può allungare, può riportare, sulla doppia cifra, il vantaggio, per i suoi, che sono ora, a più 9, 36, Martina Franca, 27, Romano Group, basket, Venafro, vediamo, il primo tentativo, di Mattias Di Marco, che va, più 10, per gli ospiti, secondo viaggio, anzi, secondo tentativo, al suo viaggio, di Voletta, non va, rimbalza lungo, fa fare un po', Corral, rimane più 10, il vantaggio degli ospiti, di parte Lovatti, il play, Martigiano, Moretti, per lo stesso Lovatti, non se la sente, di prendere la tripla, palla per Moretti, ci sono tre secondi, probabilmente, di Corral, nel pitturato, Moretti, non se la sentita, di appoggiare, avendo, presente il canestro, a un metro, si cerca, sì, forse l'assist, per il lungo, più sicuro, ma, è vero anche, che Corral, molto spesso, tende a rimanere, nel pitturato, in attesa, del passaggio, questo, implica, come anche, il gocci match, debba lavorare, settimana, sul timing, che permetta, poi, allo stesso giocatore, di casa, di arrivare, praticamente, a fare, prendere posizione, con, il secondo, di vantaggio, andandoci al fallo, di Incoie, primo fallo, superazione, a un minuto e tredici, si vanno a chiarire due, rientra, Sorgnone, Incoie, 19 anni, per lui, e la Scafaro, ne è entrato, ottimo passaggio sotto, per Corral, che prova l'appoggio, ma è bravissimo Scafaro, a tornare, e a permettere passi, probabilmente, peccato, ma è stato ben chiuso, dai, due giocatori, di casa, e ha fatto in specie, Mattia Mastroianni, e, Incoie, sotto il minuto di gioco, prima della Sirena, sempre 37, Mattia Franca, 27, Don Afro, Mattia Mastroianni, palla, per, Lugaschiano, anzi, che non sono salvatori, palla per, Santiago Bruno, non va, l'appoggio, alla tabella, dalla lunga, ripartono, Don Afroani, Pedrazzuoli, signori, quando si fa un passaggio, non si guarda, il posto, in cui un passaggio, deve passare, perché la difesa, era vita facile, l'avremmo capito anche noi, e infatti, è stato intercettato, il suo passaggio, per fortuna, che, i pugliesi, sbagliano tantissimo, in attacco, ma, dovrà necessariamente, richiamare all'ordine, i suoi, in coccinaccio, Provenzioni, legge bene la difesa ospite, il blocco di Scafaro, tanto va, rendere difficoltoso, la costruzione del giorno d'attacco, ripartono, però bene, ora gli ospiti, con un'ottima gestione, del passaggio, da parte di, di Marte, però è stato bravissimo Corral, a stoppare, il numero 13 ospite, Leonardo Salvadori, finisce così, il secondo quarto, con, la, 2S, Valle d'Itria, Martina Franca, 37, Romano Gruppo, Basket Manafro, 27, ci sentiamo fra qualche minuto, per, nel commentare, gli ultimi 20 minuti di gioco, non si sente, non si sente, io non, beh, siamo ritornati in diretta, terzo quarto, in, attesa, la gara, non è assolutamente, spettacolare, però Martina Franca, con grande regolarità, c'è da dire, si sta meritando, il più 10, dopo i primi 20 minuti, 37, 2S, Valle d'Itria, Martina Franca, 27, Romano Gruppo, Basket Manafro, se ci permettiamo, un'analisi tecnica, possiamo dire, che entrambe le squadre, sostanzialmente, non hanno grandissimi tiratori, probabilmente Martina Franca, Pescato e Lugaschiano, un ottimo, triplista, come anche il Mattias Di Marco, però, gli schemi, che portano attivo, non sono così fluidi, nonostante questo, però, Benafro paga il dazio, deve avere sempre, il vantaggio con Corral, spesso, il piccaro all'alto, viene letto molto bene, così come lo schermo Corna, con il doppio blocco, e quindi salta, la prima opzione d'attacco, comunque, riprendono posto in campo, le due formazioni, gli ospiti, schierano, con numero 8, sentiamo 1, con numero 10, Luca Schiano, con numero 13, Salvatore Leonardo, numero 11, Mattia Mastroianni, e numero 12, Mattia Stimacchio, Benafro, con Mario Tamborini, numero 11, Fabio Levati, numero 15, la prima opzione, numero 17, numero 8, Massimo Voletti, e numero 5, il centro argentino, Diego Corna, rimessa, rimessa per gli ospiti, ripetiamo, 37, Martina Franca, 27, Benafro, pochi punti, il problema non è tanto, soltanto un attacco, per ieri, la frani, quest'oggi anche in difesa, ci pare di vivere un po', la gara, che ieri, la frani hanno giocato, contro, Pescara, in pre-season, Pescara, formazione di C2 regionale, vincendo poi la Michele, solamente, ai supermetalli, Mattia Stimacchio, scelte il lato sinistro, c'è un, buon, passaggio, per Salvadori, anche se, in un'area molto afferlata, bravo Corna, a collegere, il tutto, e ad anticipare, doveva parla in, out, c'è il blocco, ora, per, i giocatori, ospiti, numero 8, Santiago Bruno, gioca l'uno contro l'uno, con Fabio Navatti, non va la palla, nel canestro, per poco, per la foglia, per il passaggio, c'è l'uno contro l'uno, di Mattia Mastroianni, con Massimo Voretti, peccato però, perché, se un giocatore, come Massimo Voretti, che esperienza, ed è più, canuto, se vogliamo, di Mattia Mastroianni, non dà un impatto, anche di aggressività, sul pallone, Martino farà, gioco facile, infatti, buon gioco a due, tra, Novatti, e Corral, con quest'ultimo, che riesce ad appoggiare, si scambiano i voli due, Corral, in funzione di play, Novatti, in funzione di lungo, 29, Benafro, 37, Martino Franca, lui va, bravo, Massimo Moretti, di parte il controvedere, a Benafro, Moretti, riesce ad appoggiare facile, per, due punti buoni, meno 6, per i Benafrani, Sant'Evo Bruno, non va, il suo cantatino, di prendersi, la linea di fondo, palla per Salvadori, che ci prova, non è attiratore, spagna, probabilmente, le tre, riparte, Fabio Novatti, sono più attirati, adesso, da Fran, Fabio Novatti, per prendersi, uno contro uno, c'è il passaggio, per il campo, che cerca di seguire, quando l'è più tirato, peccato, il passaggio, da vedere, ripartono, in controvedere, gli ospiti, che segnano, Corri, numero 10, Luca Schiame, c'è da dire, che questa è anche, un'altra, caratteristica della partita, Martina Franca, funisce, con ottimi controvedi, Benafrani, Benafrani fanno, pessimi controvedi, poco veloci, pallavola nell'angolo, c'è il fallo, di Salvadori, su Corral, in posizionamento, terzo fallo, per lui, terzo fallo, per lui, su Corral, abbiamo difficoltà, un po', di idea tecnica, dunque, approfitto per ringraziare, alle riprese, Gianni Di Chiaro, e alla regia, il nostro, inimitabile, Sano D'Ericcio, riparte Fabio Revatti, il play, sceglie nell'angolo, Massimo Moretti, mette la tricola, nell'angolo, per, tre punti fondamentali, sono tornati aggressivi, verofrani, hanno tutto nelle gambe, nella testa, per vincere questa partita, va bene così anche, la tripa di Dupaschiano, però almeno, si cerca di rispondere, colpo su colpo, agli ospiti, che rimandano, sì, a più otto, ma ora la partita, assume il carattere di Rossi, Fabio Novatti, a prendersi la responsabilità, di dare un po' di, un po' di verbo, un po' di colore, ai suoi, Mattia Mastroirani, palla per Sant'Evon Bruno, dimenticato da Pedrazzuoli, è fondamentale, la priorità di Fazzino, letto molto bene, il passaggio sotto, dei nostri, ma è pessimo, il passaggio lungo, di Fabio Novatti, su questo contropiede, come abbiamo detto, non siamo profeti, basta leggere la partita, sui contropiedi, Erafo veramente, deve rivedere, le sue strategie, in settimana, gestiti malissimo, almeno, 6-7 contropiedi, che potrebbero portare, punti facili, in quarta mattina, 36, Romano Guilico Benafro, 42, Mattia Franca, Salvadori, ottimo backdoor, di Ducaschiano, che sta praticamente, spezzando in due, la difesa locale, per Amoretti, rifuffito in piedi da tre, scarica nell'angolo, per Mario Tamburini, Fabio Novatti, ci sarebbe il passaggio lungo, su Corral, che però sta lottando, con Salvatore, si prende, il blocco di Corral, scarica nell'angolo, per Mario Tamburini, Corral ancora, 6 secondi, Corral riesce, anche se commette passi, secondo il nostro giudizio, così, ha mosso praticamente, il piede sinistro, da dire che, sulla chiusura del palleggio, sono veramente molto bravi, i lunghi ospiti, a indurre, nell'errore, il centro, di Venafre, una partita, sembra a questo punto, maggiormente viva, rispetto, al limite, i suoi periferi, Salvatore, scambia con, Salvatore Bruno, che si prende il jumper, dalla lunetta, senza, una intimidazione, da parte di un avversario, insomma, c'è anche, un po' a far sentire, la pressione, fisica e psicologica, sui ospiti, che continuano ad avere, dieci punti di vantaggio, di Venafre lui, se erano i primi attivati, però in difesa, veramente, lascialo moltissimi, corridoi, corre allontano dal pitturato, vabbè, se questi sono i passaggi, in DLB, dobbia passi, passi evidenti, per fortuna, che Lugaschiano, si è praticamente, bloccato, psicologicamente, sull'onore, palla per molti, e finge la tripla, ci sarebbe una storia, che c'è il fallo, di, Mattias Di Marco, che comenta il suo primo fallo, ma se c'è il fallo, dice Venafro 0, Mattias, Martina Franca 2, c'è il primo time out, chiamato, per ogni probabilità, da Martina Franca, sul tentativo, dall'onnetto, di Massimo Meretti, quando sono trascorsi, quattro giri, di lancette, Venafro rimane, sempre sotto, la doppia cifra, di svantaggio, o meno 10, 36, Romano Di Marco, di Venafro, 46, Martina Franca, tanto meno, da segnare di vitalità, cerca di rispondere, colpo fu colpo, alle invenzioni, dei ospiti, la squadra, Martina Franca, molto regolare, molto giù, l'abbiamo detto, sembra dimostrare più voglia, però certamente, il tasso tecnico, presente, nel quintetto di casa, ci pare leggermente superiore, soprattutto, in alcuni abbinamenti, e offensivi, anche difensivi, certo è che, se però, per il sole si dimentica, l'abbinamento, di prendersi Santiago Bruno, se poi, su alcuni piccarolli, cambi difensivi, si perde quel passaggio, quel passo, in più, Martina vita facile, comunque, magari tutto da decidere, approfittiamo anche per ricordare, che le due squadre, si conoscono in realtà, dallo scorso anno, perché lo scorso anno, si sono encontrate, per la prima volta, in DNB, alla seconda, dottoressa di andata, Martina, in flisse, un più 13, 72, 59, a Venafro, in casa propria, mentre a ritorno, per la frana, buttarono, letteralmente, la partita, partendo di 5, 61, 56, in una gara, in cui, Carichello e, Serravalli, ci misero l'anima, ma, nella sostanza, persero il treno, proprio nei secondi finali, intanto, mette il primo libero, Borretti, 37, Romano, gruppo Penafro, 46, 2S, Valle Vitria, mette anche il secondo, 2 su 2, per il numero 8, di casa, meno 8, parola di Verafrani, e ancora, Mattias Di Marco, scarico per, Mattia Mastroianni, para Salvadori, c'è un giocatore, non inteso, tra i due, i due giocatori, ottima l'idea, di costruire un triangolo, con la zona, per sfruttare un taglio, per la famiglia, hanno però letto bene la situazione, e Fabio Lovatti, ora, nel mucchio, scarico per Massimo Retti, fa la preparazione, che rifiuta, il tiro da 3, e si prende il fallo, sull'attima finita, da parte di, Luca Scano, che commette il suo, secondo fallo, Martina è, a tre falli, di squadra, e questo, è l'altro dato, su cui volevamo insistere, nel minuto 20 minuti, Benafro ha patito, molto la difesa, e quindi ha subito, ha concesso, molti falli, ora, si è ribattata dalla situazione, 3 a 0, fa la soluzione falli, per il, Borgia Franca, e Lovatti, si prende la tripla, con la destra, probabilmente ci sarebbe un fallo, non è stato segnalato, dall'arbitro, anche se c'è passo, molto forzato il tiro, questo denota, come probabilmente, Benafrani, spesso, si prendono la licenza, di provarci da soli, quando invece, il basket, è possibile essere, gioco di squadra, Salvadori, perimetrale, per, Santiago Bruno, che cerca il passaggio, schiacciato, per Salvadori, era tutto prevedibile, e di parte, per la soluzione, che probabilmente, Benafrani, prendersi lo sfondo, questo lo stavamo anticipando, non capiamo perché, probabilmente, riusciamo a leggermi noi, da qui, abbiamo uno sguardo privilegiato, ingenuo, per Razzuoli, secondo noi, secondo noi, dovrebbe, un attimo, riposare, comunque, commette il suo secondo fallo, in una situazione, di pseudo, contro piede, a difesa schierata, addirittura, sembrava, un triplice, muro pallabolistico, e andava a prendersi lo sfondo, sul centrale, dietro, insomma, per scaricare, foro, quando c'erano anche i compagni, perimetralmente liberi, per evitare, a tirare tre punti, va bene, riparto a Martina Franca, che ha sempre, otto punti di vantaggio, San Piavolo Bruno, difeso da Lovatti, prova a scippare il pallone, Massimo Moretti, a Luca Schiavo, non ci riesce, ma non riesce, Mattia Mastrerani, a sporcare, il pallone, questa via salone, che ne riesce, però, ad appoggiare, in controverso, e da Tamburini, a prendersi, l'attentativa di appoggio, errori da entrambe le parti, 4 minuti e 30, alla fine, del terzo quarto, guida nel traffico, Mattia Spinarco, chiama il doppio, blocco alto, palla rimbaltata, per San Diego Bruno, esce, in alto posizionamento, il numero 8 ospite, riparto le vele frane, anche qui, gestione del pallone, un po' complicata, si prende la tripla, Moretti, si prende la tripla, Moretti, non va, però è un ottimo rimbalzo, quello di, di Diego Corral, c'è, praticamente, il secondo fallo, del, 9,12 ospite, Mattias Di Marco, che manda, in un'unità Corral, ma su questo, su questo, su questo è il calato arbitrale, c'è, il time out ospite, scusa, il time out per Ivera Frani, 4 minuti e 6 secondi, alla terza sirena, meno 8 per Ivera Frani, 38, Romano Group, basket regafro, 46, per, 2S, Valle d'Itria, il time out in cui, il coach ma, ci sembra, regalire, soprattutto, a cui ha scelto l'attacco, su alcuni schemi, con ogni probabilità, la difficoltà di Ivera Frani, soprattutto nel, secondo passaggio, anche bene, che la difesa ospite, riesce ad adeguarsi, con l'ottima, intelligenza, probabilmente, l'ha studiato in settimana, coach russo, che sa il fatto suo, tutta la strategia, difensiva possibile, abbiamo visto, moltissimi raddoppi, su Corral, che è un ottimo centro, che ha avuto vita facile, in precampionato, che stasera, sta veramente, patendo un po', non solo, la buona difesa, di Mattia Mastroianni, e di Salvatori, ma ci consentire anche, il prossimo, la prossima gestione, dei passaggi, per lui, da parte, dei suoi compagni, comunque, Corral va, ai liberi, Martina Franca, ora sotto bonus, al prossimo fallo, ci andrà sempre, in l'uretta, per i Venafrali, mette il primo, lungo Corral, mette anche il secondo, sfonda, la barriera, dei 40 punti Venafro, 40 Venafro, 46 Martina Franca, meno 6, ora, la situazione si fa più finita, per i Venafrali, tentativo di Becnor, di Sant'Uvaschiano, ottimo ribaltamento, palla per Mattia Mastroiali, che mette la tripla, un giocatore molto, molto determinato, in settimana, ottimo, parole su di lui, da parte del presidente, schiamone, e ritorna più 9, Martina Franca, 49, contro 40 Venafrani, palla ora, con Corral, raddoppiato, palla per Lovatti, che si prende il pitturato, palla per Tadion Burrini, prova la tripla, la mette, bravissimo, Mario Tamburrini, bravissimo Mario Tamburrini, intanto gli arbitri, chiedono di risistemare le due retrine, l'abbiamo detto, in prestagione, Tamburrini, ecco, il giocatore su cui, Venafrani hanno scommesso, un po' di più, se volete, rispetto alla stagione del corso, ha perso molto motivato, in prestagione, e stagione, sembra più deciso, potrebbe essere, la chiave di volta, di questa gara, non lo sa, ancora per Venafrani, che rimanda, la cacciata della partita, 3 minuti, 19, alla fine, della gara, anche lo scuro del terzo quarto, intanto c'è il fallo di Massimo Moretti, che commette il suo terzo fallo, da tenere in occhio questa situazione individuale di Moretti, che fa il paio con i tre falli di Mimmo Ferraro, intanto c'è un cambio bene da fare, esce proprio Moretti, entra Mimmo Ferraro, c'è un segno eloquente di Corval, al suo compagno Ferraro, di stare attento a Schiavo, perché tira, e c'è un cambio difensivo, infatti Ferraro si prende ma a tre anni, ed è Mattias Di Marco, che si è prodotto in un auto isolamento, si dorme un po' in casa Venafro, passi di partenza per Mattias Di Marco, evidenti, ha mosso il piede perno prima di partire, nel lugeo incrociato, intanto c'è il cambio, esce Salvadori, entra Obinia Ancoie, numero 17 ospite, molto fisico, molto atletico, comunque tre giri di lancette alla terza sirena, e Velaferri possono rimettersi ancora sotto, meno 6, 43, Romano di Rupi Venafro, 49 Martino Franca, Novatti, scambia con Tamburini, palla per Pogazzuoli, che prova a servire Coral non riesce, palla per Mimo Ferraro, secondo il suo tiro delle due, non va, però la Coral nel tap in, riesce in qualche maniera, a mettere la palla nel cesto, prima di cadere, e tiene vive la speranza di Velaferri, che sono almeno a 4 ore, a 45-49, 2 minuto e 35, alla terza sirena, Incoie, perometrali, non c'è nessuno nel pitturato per gli ospiti, si prende Mattias Timarco, la briga di Gugano del traffico, e c'è una chiamata, c'è una chiamata abbastanza rivedibile, da parte dell'arbitro, Nicola Tambaro, di Giffoni, Valle Piana, su Fabio Lovatti, sembrava aver toccato la palla, più che la mano, certo, l'arbitro era un metro e mezzo, però buona la pressione, quella che reclamiamo dall'inizio, sui portatori di palla, è necessario far sentire, soprattutto a Di Marco, che è la regia di questa squadra, ma anche a Sedano Bruno, tutta la difficoltà di palleggiare, di prendersi l'auto isolamento, di prendersi il tiro, bisogna iniziare a fare la faccia da tigre, cattiva, su alcuni giocatori avversari, Di Marco, Tamborini in difesa, è un ottimo palleggiatore, chiama lo schema, Santiago Bruno, si prende il blocco, Vingoi, palla per Lucas Chiano, che prova la tripla, non va, la palla finisce nel cap out, nelle mani di Corral, ripartono i benafari, Lovatti, però non se la sente di accelerare ulteriormente, questo contropiede, e si gioca uno contro uno contro Santiago, e Bruno, prende il blocco a destra di Corral, ora a sinistra, palla a lui, bravissimo Corral, peccato per l'errore, però il gioco è questo, sul cambio difensivo, sul doppio blocco, autoportato da Corral, c'è il fallo del numero 11, Mattia Mastroianni, secondo fallo, su questo gioco piccherone, con il doppio blocco, quasi immediato, è bravo molto a sfilarsi Corral, a prendere il vantaggio, non mi smetso, perché rimane sul blocco, il suo lungo difensivo, però deve fare la difenza, poi, nell'appoggio, mette il primo libero, il centro, Benafrano, 46, Romano Di Ruppo, 49, Martino Franca, sbaglia il secondo, più tre per gli ospiti, ma adesso, tutta un'altra partita, siamo sotto le due lancette, alla fine del terzo quarto, Di Marco, gioca l'uno contro uno, riesce a servire il goie, è un ottimo palleggiatore, si autoisola, per prendersi il tiro, da due, ed è veramente bravo, in questo fondamentale, questo è il problema, per i Benafrani, riesce a tenere su, la sua squadra, 51, Martino Franca, 46, Benafro, Petrazzuori, tiene la palla per Ferraro, ci sarebbe il passaggio per Corral, non è così, blocco a sinistra di Ferraro, per Novatti, cambio difensivo, Novatti, ora può approfittare, probabilmente c'è la penetrazione, anzi no, prova la tifla, c'è il passaggio, un po' forzata, non va in balzo bene Corral, che però approfitta di un tap out, sbagliato, recupera ancora Corral, che subisce fallo, da parte del numero 11 ospite, e c'è Mastroianni, al suo terzo fallo, per la difficoltà, a mettere, questa maledetta, palla a spicchi, all'interno del cesto, per i Benafrani, che ora si stanno prendendo, con il vantaggio, che inizialmente avevano, sulla carta, nel pitturato, soprattutto quando riescono a avere, Corral, come dire, un metro staccato, dal difensione, che riesce a effettuare il taglio a fuori, delle situazioni, però soprattutto sporche, e non in quelle costruite, un minuto e 11 secondi, alla fine del terzo quarto, 46, lo diamo gruppo, 51, per Martina Franca, esce proprio, Mastroianni, per il numero 4, Francesco Forti, un ventenne, per un ventenne, Mastroianni nato a Napoli, Forti nato a Firenze, Forti figlio d'arte, il papà Andrea Forti, è stato un ex giocatore, della gloriosa Livorno, ed è un play assolutamente puro, da tenere in considerazione, non mette il primo, Corral, a cronometro fermo, ora Martina è sotto bonus, praticamente, si va sempre al tiro, per i verofrani, sui falli, mentre i verofrani possono spenderne due, prima di questa circostanza, mette il secondo, meno 4, due processi di vantaggio, per Martina Franca, un minuto e 7, alla fine, 18 secondi, per costruire l'azione d'attacco, per gli ospiti, Luca Schiano, c'è il passaggio tentato, la nonna per Di Marco, non è arrivato, Santiago Bruno, cambio difensivo, si viene pitturato, scarico, era un po' in veloce la palla, per gli ospiti, bravo Di Marco, che prende il quarto fallo, di Mimmo, non è anticipato, di, chiedo scusa, Mimmo Ferrara, e sarebbero il numero 8, di ospite, che lo scusa, a puntare subito il pitturato, esce proprio Mimmo Ferrara, entra Raffaele e Minghella, il monetaggio ridotto, si sa, quest'anno, per Raffaele, che dovrà giocare in un doppio ruolo, quale è quello di play guardia, soprattutto di guardia, nella presenza in campo di Fabio Novatti, 50 avversimenti, di parte dei miei ospiti, Mattias Di Marco, e lo stesso Minghella, che si va a prendere la briga, di giocare contro di lui, anticipato, un'ottima, lettura difensiva, da parte di Fabio Novatti, che è abbastanza prevedibile adesso, perché lo hanno giocato già spesso, i giocatori ospiti, con il dopo blocco alto, si cerca all'altro, per fare il ribaltamento, sul cambio difensivo, soprattutto sull'alline del lungo delle frano, però ha letto molto bene, dall'interno del pitturato Novatti, palla fondamentale, 35 secondi, 14 all'azione, palla, un ottimo mismatch, corre Diego Corral, tra i due giocatori, adesso si sta un po' sfaldando la difesa, Corral riesce a mettere due punti fondamentali, per il meno due, qui il libero supplementare, e c'è intanto il terzo fallo, non sappiamo bene di chi, non sappiamo bene di chi, ci aggiorneremo, sull'autore del fallo, c'è Pascio in realtà, Luco Schiano, ci pare Luco Schiano, comunque questo è poco importante, nell'evoluzione della partita, però adesso, mette anche il libero, con il meno uno, i veraframi, ora riazzerano un po' la partita, forti diffusione di play, Mancino play, c'era infatti il fallo di Luco Schiano, per gli ospiti, palla sempre nelle mani di Mattias Di Marco, c'è tanto il blocco di Odin, ci sarebbe un passaggio per lui, lo legge bene, Diego Corral, ora, sta praticamente giocando, in solitaria, Mattias Di Marco, simmetricamente, ai giochi veraframi, sta cercando di giocare, con il piccolo lato, con il lungo, diciamo così, adottato, ospite, un coie, ma è molto bravo Corral, a non sfilarsi, a non staccarsi, dal lungo, e nel tentativo di protezione di Marco, ha praticamente sentito, di uno di sé, sempre l'avversario, per anticiparlo il passaggio, ottima lettura, e ve la fanno ora, bisognava 9 secondi, di portarsi avanti, per la prima volta della partita, lo batti, si prende la tripla, non va, perché ci è sembrato lungo, però rimedia Corral, con il pocio, per il più di due, per il più di uno, 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 si anima ora, il pallo a potere montana, ottimo Corral, la squadra è più sicura, ci sentiamo fra qualche istante, per gli ultimi dieci minuti, di questa passata partita. siamo alla vigilia dell'ultimo quarto, una gara che si è praticamente aperta, riaperta nel terzo periodo, noi sappiamo che Venafro ha probabilmente delle qualità superiori, per invece questa partita, nei primi due quarti e mezzo, Martino Franca ci ha messo veramente l'anima, dimostrando tutte le sue potenzialità, però è bene dire che Venafro sono leggermente saliti in categoria, hanno iniziato a prendere con il vantaggio che abbiamo detto nel pitturato con Corral, e ora la partita si è ribaltata, Venafro avanti di un punto, 52, Romano Gruppo Venafro, 51, 2S Valleditria, Martino Franca, intanto in campo due play per gli ospiti, c'è Mattias Di Marco e Andrea Forti, una guardia tiratrice come Lugaschiano, e due lunghe adattabili come il giovane Mattia Mastroianni, e il numero 13, Salvatore più fisico, di parte il regista della squadra, Mattias Di Marco, c'era un show di Corral, palla ora per San Valore, ci sarebbe, dai e vai, non è così, se non è così, se non è il cuore è piccolato, fa la sua difesa, commette passi, ha da ridire sulla scelta degli arbori, è molto difficile in questi casi, perché il piede perno ci sembrava molto fermo, però è vero anche che basta scivolare un po', sulla posizione, sul profusione del piede perno, per commettere le forze dei passi, bene per Venafro, e Lovatti ora a prendersi la responsabilità di questo possesso, palla per Corral, che gioca lontano dal triturato, Lovatti, palla per Prezzuoli, va a giocare l'uno contro uno, scarica per Corral, ci prova a Minghella, non va, è un tiro assolutamente forzato, ora Venafroli dovrà fare solamente una cosa, evitare di ricadere negli stessi errori, ora che hanno l'inerzia della gara dalla loro parte, o il coltello dalla parte del manico, come si suol dire, cercare di evitare di cadere negli stessi errori, nei primi due tempi, Lovatti, molto statica l'azione di Venafroli, gioco a 2-0, palla per Moretti, che si prende la tripla, non va, però è bravo Corral, a raccoggiare, e ora emerge il 54-51 per i Venafroli, bravo ora Corral, a stoccuare Mattia Mastroi e Anni, però dobbiamo dire il più bravo, probabilmente, in operazioni a tenermi sotto il cadestro, e riporto nei Venafroli, 8 minuti e 36, si sta leggermente scollando ora Mattia Franca, soprattutto in attacco, quando la palla non è nelle mani di Mattias Di Marco, gli ospiti, faticano moltissimo, c'è ora il ribaltamento per Minghe, la palla lunghissima, che finisce addirittura in un tap-in di Massimo Voletti, non va, ci pensa Diego Corral, che ora sta a prendere le acque, per far passare i suoi, e con gli odi verso la salvezza, praticamente Venafro ora ha fatto un parziale decisivo, 56, Romano Gruppo e Venafro, 51, Mattino Franca, Salvadori, si va a chiudere in un buco sotto il canestro, non va Mattia Mastroianni, e c'è un fallo in difesa di, la loro operazione, un cambio difensivo, chiede anche il cambio di Diego Corral, un po' in debito di osseggio, ma chiede a Coach Mascio, un minuto di rifiato, e tra scaforo, così come per l'aspiti esce, Forti Francesco, entra il numero 8, Santiago Bruno, sempre due, tre in campo, ovviamente, l'Argentino, Santiago Bruno, e Mattias Di Marco, la squadra del mare, per socchio uguale, ma è l'atteggiamento, quello che fa la differenza in questa fase, 8 giro di lancetta, la fine della partita, rinnessi all'attacco degli ospiti, bravissimo Santiago Bruno, a bersi Levatti, sullo schema, 56 Romano Guilipo Genafro, 53 Martina Franca, 7 minuti e 48, da giocare, per la zona lui Levatti, chiama la schema con il blocco, c'è un cambio difensivo, chiama ancora il blocco, anziché deve andare via a scafale, si prende probabilmente il jumper, da tre, la palla è buonissima, mette una tripla, fondamentale, mette il tindro, per il 59, Venafro, 53 Martina Franca, ora è Santiago Bruno, palla per Salvadori, Salvadori consegnato per Mattias Di Marco, scarico esterno per Luca Schiago, non c'è la sette di tirare, fa saltare letteralmente Massimo Moretti, e accorge con calma alla tabella, riparte Venafro, 7 minuti, Levatti, non riesce ad allontanarsi più di tanto la squadra di casa, per Trazioni, palla per Levatti, c'è un po' di traffico, zona 2-3 per gli ospiti, palla per Moretti dall'angolo, non mette la tripla, peccato, non c'è il coro al rimbalzo, riparte negli ospiti, in una situazione di possibile vantaggio di Schiavo, che finge l'ingresso al campo, c'è intanto, in una situazione ingarbugliata, al centro dell'area, gli altri, mi sono chiesto a chiamare, la sospensione della partita, per verificare le condizioni di Mattia Mastroianni, che si realizza zeppicante, in un corpo a corpo, con Omero Pedrazzuoli, e ragazzi, dell'impresa di Pulizia, Venafrana, Santoro, e il suo compare Casabetta, stanno pulendo il campo, un appalto, dato un giro appalto da Riccardo Buono, ci consentite anche una vera ironica, in questa fase della partita, 6 minuti e 42, da giocare, rimesso in attacco, è Mattia Mastroianni, ad occuparsene, primo taglio di Santiago Bruno, palla per Mattias Di Narco, che è molto bravo, devo dire, in qualità di play, riesce a servire Salvadori, scarico esterno, palla che ballonzola, un po' sul perimetrale, Saavedri potrebbe avere probabilmente la possibilità, di un appoggio, però, questo dimostra come la squadra ospite, cerchi sempre la soluzione migliore, che può essere anche dettata da un tiro buono, di un compagno, non va in appoggio a Nugaschiano, riparte Venafro, 6 minuti e 13, palla per Raffaello Minghella, Corazzona, palla per Petrazzuoli, Moretti, chiedo scusa, Lovatti, palla per Raffaello Minghella, corto il tiro da 3, c'è un antisportivo, di Stefano Scafaro, ci parla di capire, che ha praticamente dato un colpo, con il gomito a Salvadori, probabilmente la terza del mento, commettendo un antisportivo, e ora, commette solo un secondo fallo, antisportivo, si chiariscono due, sull'indicazione del secondo arbitro, Adriano Fiore, di Scafatico, scusa, questo comporta per i Venafani, liberi per gli ospiti, più il possesso, rientra intanto Diego Corral, a riprendersi i suoi 6 minuti finali, fondamentali ora, per tenere la partita in mano di casa, in mano Romano Group, esce tanto Fabio Lovatti, entra Mario Tamurreni, un po' scuro in volto, forse aveva un'altra benzina, per questa fase finale della partita, però è giusto dare spazio anche a Mario Tamurreni, che ci pareva assolutamente motivato, sbaglia il primo libero, Salvadori, sbaglia anche il secondo, 0 su 2, questo è importante, per l'economia della gara, vedremo la fine, con l'erene spesso capitale, comunque ripartono con le remesse in attacco, gli ospiti, Satiaco Grunio per Schiano, scambio del palo del 2, si prende il pitturato, ottima difesa, buono lo scarico per Salvadori, Meretti più basso, è stato abito a giocare a 2, con il suo compagno, meno 2 per Martina Franca, ma più 2 per Venafani, 0 per gli ospiti, Venafra patisce, adesso questo sistema difensivo, c'è di battamento, parla per Mario Tavurrini, che mette la tripla importante, bravo Mario, bravo, 62 Venafro, 57 Martina Franca, non siamo ancora a metà del tempo, il quarto quarto, ci bravano gli ospiti, lasciate un barco eccessivo, a Satiaco Grunio, che se ne va a prendere tutto, e su questo, dovremmo dire, è fondamentale, il video di questa gala, per coach Macio, molti errori di posizionamento, e di abbonamento difensivo, palla per Mario Tavurrini, per Razzuoli, molto importante ha tritturato, palla ancora nell'angolo per Tavurrini, ci sarebbe ribaltamento, veramente per Minghella, non è così, allora si attacca il tritturato, con Pro Razzuoli, ancora per Tavurrini, che mette l'altro qui, per il 65-59, Pussai Bonafro, 4-45, abbiamo detto, fondamentale, l'apporto anche di Tavurrini, c'è un mismatch sotto, c'è il fallo, qui, a Mario Tavurrini, su, numero, 8, quarto fallo, scusa, per, a Mario Tavurrini, entra, intanto, Ferrano, per D'Affere, Minghella, 4 minuti e 40, ancora non c'è Bollos, per Ganafro, 3-0, ovviamente, la sezione Fali, per i Benafrani, Mattia Franca, veramente, necessitava di trovare punti, se non è rimanere la questione della partita, Mattias Di Marco, la sede di Blocchi per lui, ribaltamento per Mattia Stoyani, che si va a prendere pitturato, provendosi un po', tutta la difesa, per i due punti, che rimettono ancora in gioco, gli ospiti che ci credono, squadra tenacissima, 65-61, 4 minuti e 20, ritorno da l'uomo, in pugliesi, palla per Corral, che subisce anche fallo, da parte di Salvadori, aveva perso, praticamente, il posizionamento buono, Salvadori, lo fanno costruito a rimediare, con una, ancata, 67, Benafro, 61, Mattia Franca, time out, a 4 minuti e 13, dalla conclusione, Benafro è a Pusse, che ha la possibilità di fare il pieno, anche in lunetta, con il tentativo di Corral, una gara ribaltata, ripetiamo, dal 25esimo, 26esimo minuto in poi, ora che la Franca stanno gestando, una sensazione, un po' migliore, rispetto ai primi due tempi, e quindi, è in un certo senso, la possibilità di avere domani, però ripetiamo, Martina Franca, che è una scuola, che non nolla, ha dei giovani, talentosi, ma assolutamente motivati, che non stanno pagando, eccessivamente, il dazio, di un esordio, in una categoria, che alcuni, a partire, solo in quanto, riserve, ma dire anche, che la scuola, ripetiamo, che ha una età media, molto, molto, bassa, se si eccettua, il numero, 12, Mattias Di Marco, che è trentenne, gli altri hanno, praticamente, un'età che varia, tra i 19, i 16, i 17 anni, fino ai 22 anni, qui entrano in campo, i due quintetti, Coral, si appresta, per effettuare, il suo tentativo, dalla lunetta, per chiudere, il gioco, da tre punti, intanto, apprezziamo anche, gli applausi, di Mattia Mastriani, al suo pubblico, una ventina, di tifosi ospiti, con un bagnarone, a scacchi, arancione e blu, con il cuore al centro, molto bello, tanto quanto, la banniera, con la frana, giallo e blu, mette anche l'altro libero, per Coral, Coral, 68, Romano Vittorio Benafro, c'è sentito, Mattia Franca, 4 giro di lancette, palla per Mattia Mastriani, tripla, dall'angolo, non va, si prende l'imbalzo buono, Coral, ci sembra un po' affaticato, si prende il piccolato, Bruno, sentiamo Bruno, non va, la palla però finisce, essere peccata, da Mastriani, primo numero di, più alto di Pedrazzuoli, rimessa per il refrani, 3 minuti e 53, più 7, per il curioso passaggio, in Pedrazzuoli, ora, per il compagno Moretti, ora, solo gestione dei 24, con possibilità anche, di arrivare a una conclusione, Moretti, grande traffico nel pittodato, esce poi dall'aria, palla per Moretti, per Pedrazzuoli, 5 secondi, 4 secondi, palla, pessa, per il passaggio sulle ginocchia, recupera però bravo, Mario Talburrini, bravissimo, il ragazzo Cassinate, che va rimediato, l'errore non suo, ma l'errore di passaggio, di Onore, Pedrazzuoli, passaggio sulle ginocchia, che ha complicato, la ricezione del numero 11, di casa, 3 minuti e 27, l'omano gruppo, Venafro 68, 2 osse, Valle Vita, Martina Franca 61, chiama lo schermo a pugno, Mattias Di Marco, scambia con Salvadori, cambi di posizione sotto il piccolato, se lo vedete, chiama un compagno, della sua zona, ma intanto Sandriano Bruno, si mette in solitaria, per gli altri due punti, del riavvicinamento, 68, 63, per Venafro, a 3 g, abbondanti di lancetti, per azione, attenzione per i suoi, dovrebbe essere, il segnale, questo per i Venafrani, più neti, dal numero, 8, sentiamo, meno 3, per Martina Franca, per la sua, due ore consecutivi, che possono condivere la partita, in atto no, speriamo di no, per la sua ancora, passeggio dentro, per Corral, ma c'è troppo traffico, e prende la palla anche Corral, che chiamava probabilmente, un backboard, un taglio sotto, di un giocatore ospito, di un giocatore della Fran, pallone per Mattia Nostroianni, e dall'angolo, mette la cifra, del pareggio, necessario, il time out, per i Venafrani, a 2 minuti e 25, eccoci qui, a ricommentare la partita, ancora una volta, tutta, da decifrare, due errori consecutivi, in un passaggio a Tamborini, e in una gestione, di un possesso, nel cuore quasi, dell'aria, da parte di Petrazzuoli, due possessi, che hanno rimesso in gara, la formazione ospite, e speriamo che, coach Macero, riesca, a regarguire un po' i suoi, che ci sono apparsi un po' spenti, troppo fermi, quasi sicuri ormai, della vittoria in tasca, ma la parola che adesso, ci insegna anche, molto spesso, anche negli ultimi istanti, può accadere di tutto, partita vinta, e anche, con un ribattamento, di 7-8 punti, quindi fondamentale, mantenere enormi saldi, fatto sta che, dopo 37 minuti, e 45 secondi, anzi, 35 secondi, nessun padrone, di questa gara, tutto da decidere, però, il possesso, era per, i benafrani, mentre invece, Martina Franca, in panchina, si carica, dobbiamo un po', come la Frania, andare a zonzo, per il campo, senza, autoincitarsi, speriamo, ci sia, la volontà, da parte, del giocatore, di, coach, di Marco, di Ferrara, palla, per Tampurini, il secondo, centro del, campo, palla ora, gestita malamente, in passaggio, tentato, per, Corral, pensare, sentito, di fare, passaggio, alto, piuttosto peso, palla per, Luca Schiano, che si butta, da trutturato, pensando, più di subire il fallo, invece, che di appoggiare, a canestro, un minuto e cinquanta, palla Fabio Lovatti, sessantotto pari, tutto da decidere, Tampurini, Corral, fuori del trutturato, palla per Lovatti, dieci secondi, per l'azione, blocco alto, di Corral, gioco a due, palla, che rimane, in dirico, tra una contesa, un passi, invece l'arbitro, vede un fallo, di Bruno, che commette il suo, secondo fallo, una chiamata difficile, ce la consentite, cerchiamo di essere, più neutrali, e imparziali possibili, la palla, poteva, bellissimo essere oggetto, in questa circostanza, di un'altra chiamata, passi probabilmente, l'avevo anche contesa, così non è, un minuto e trentasei, quattro undici secondi, di nuovo, per l'azione d'attacco, per i metafani, una volta da sotto canestre, punteggio pari, tutte pari, in questa gara, palla per Tampurini, che scambia, con Lovatti, che chiama lo schermo, con l'uncello, a Corral, si prende la tripla, la mette, va bene, va bene così, Lovatti, Sorgnone, e porta a tuttore, a venafrani, 71, 68, un minuto e venti, da giocare, palla, a San Piago, Bruno, il quale scarica, per Lugaschiaro, che si prende la tripla, e la mette, adesso, botta e risposta, tra le due squadre, un minuto e dieci, tutto ancora pari, 71, Venafro, 71, anche Martina Franca, probabilmente, quattro azioni, vedremo, in questa frangente, 13 secondi, per i venafrani, palla per Ferrara, scalica per Tampurini, che ha otto secondi, si prende la linea di fondo, e prende la palla, perché nessuno, gli ha dato, un passaggio, è buono, Lugaschiaro, palla per Mattias Di Marco, Salvadori, ad ora, in possesso buono, 43 secondi, 16, 15, per l'azione, d'attacco, i pugliesi, c'è un arco a sinistra, nessuno dei compagni, di, Novatti, gli indica, essere deboli, su quel lato, e di fatto, è costretto, Novatti, a commettere, il fallo, sul, numero 8, ospite, intanto, c'è il cambio, e rientra la federazione, per Mario Calvorreni, non c'è ancora, il bonus, 4 falli di squadra, per il Menafe, 2, per Martina Franca, 37 secondi, 71 pari, rimessa in attacco, per gli ospiti, 14 secondi, classico giro, con i tagli, e ora Moretta, difende la sua, Mattias Di Marco, il quale, chiama a sé, lo show di Corral, palla per Mattia Mastroianni, che si vende la tripla, non va, però c'è un fallo, di, Mimmo Moretti, Mimmo Ferraro, chiamato dal, primo arbitro, Tammaro, di Gifone, Vare Piana, in corizia di Salerno, esce per, quinto fallo, Mimmo Ferraro, entra per lui, Mario Calvorreni, situazione, incandescente, 26 secondi e mezzo, da giocare, andrà ai liberi, Salvatori, che c'è a passo, un po' a tutti i banti, questo è fondamentale, nel, precedenti viaggi, nel precedenti viaggi, in lunetta, mette invece il primo, il numero 13 ospite, si dimostra freddo, quando serve, 21 anni, da Pisa, mette anche il secondo, per il più due ospite, pallo a Ero, a Levatti, non accorre rapidamente, Venafro, per cercare di fare, la differenza in attacco, Levatti, Levatti, subisce fallo, da Di Marco, la chiamata, di coach russo è, fare fallo, per mangiare tempo, visto che, il bonus è ancora lontano, per gli ospiti, infatti, l'esercizio di fallo, Venafro 5, mattina franca 3, c'è un time out, per Venafro, sull'esercizio di, mattina franca 73, Venafro 71, intanto, Tamaro va, a sincerarsi, che, sono terminati i time out, per Venafro, andrà a comunicare, probabilmente, anche il suo, assistente, al secondo arbitro, probabilmente, la chiamata, di coach russo, sarà quella, di fare, camminare ancora, il pallone, per i Venafro, commettere il quarto, fallo di squadra, e poi tornare, a concedere, una ulteriore azione, per i Venafro, e in quel caso, non commettere fallo, sperare che i Venafro, possano perdere il processo, possano sbagliare il tiro, da due, certamente, sbagliare, eventualmente, il tiro, della vittoria, gara che, quindi, ora, si è spostata, nella metà campo, pugnese, cerchiamo, di capire, anche, la lettura, che coach Mascio, darà, a questa, azione, costruzione, in attacco, ci sono, due secondi, di differenza, tra il cronometro, generale, 19 secondi, e il cronometro, dell'azione, ospiti, di, sono di casa, 17 secondi, c'è passo, comunque, che la chiamata, è quello, proprio, di fare fallo, ma non, su, di far giocare, un po', delle frani, di fare fallo, probabilmente, sul tentativo, da tre punti, e lo vatti, che si prende, la briga, di sbagliare, c'è la necessità, di fare fallo, in realtà, Martina Franca, vai contro piede, con il Meschiano, due punti, fondamentali, più quattro, da Martina Franca, tre secondi, ci prova, probabilmente, da tre, pedrazione, la metto, a un centesimo, dalla fine, 74, Romano Grinco, Venafro, 75, Martina Franca, gestione scelerata, del possesso, assolutamente, da, rifiamare all'ordine, tutto, il roster, Venafro, gara, che Venafro, regala, su un piatto, d'argento, agli ospiti, che hanno, sin, dimostrato, grandi potenzialità, ma assolutamente, assolutamente, non è anche legittimo, da parte di Novatti, andare a richiamare, l'arbitro, di una gestione, del fallo precedente, non visto, perché, secondo il nostro giudizio, ha forzato eccessivamente, la scelta, comunque, risultato finale, Venafro, 74, Romano, vinculerafro, 74, due, S. Valle d'Itria, 75, come lo scorso anno, anche quest'anno, Martina Franca, si vede a regalare, in anticipo, rispetto a Natale, una vittoria, noi ci salutiamo qui, ringraziamo Gianni Di Chiano, per le riprese, saluto dell'Ovicio, per la legia, un peccato, ma ci vediamo alle prossime occasioni, per completare le altre partite, della Romano, con l'Ovicio, ma ci vediamo alle prossime occasioni,